questi transiti Mercoledì 18 aprile, San Galdino, è il centottesimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 257 al termine il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 20.03, la luna si leva alle 8.09 e tramonta alle 22.46 arrestato Antonio Foscarini sotto la gravissima accusa di aver svelato i più intimi segreti della Repubblica a personaggi stranieri ricevendo anche denaro da essi, era già stato arrestato nel 1615 ma allora le accuse si erano dimostrate inconsistenti il processo viene celebrato per direttissima in Fiera Santa Lucia di Piave terzo weekend di Mastro Birraio dedicato alle birre europee da domani fino al 22 aprile oltre a 20 birrifici, gastronomie d'eccellenza, spettacoli ed altro le previsioni per domani, cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti temperature rispetto al giorno precedente sulla pianura senza variazioni di rilievo sui monti in lieve aumento eccetto stazionarietà nei valori notturni nelle valli venti deboli o moderati in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile mare calmo o poco mosso